I carabinieri hanno dato vita nella zona di via Algeria a una ordinanza di custode cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Catania su richiesta della DDA nei confronti di 29 persone, 22 delle quali in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 1 soltanto con obbligo di dimora. I reati contestati a vero titolo sono associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti e aggravata dall'uso delle armi, dall'impiego di minori, dal fatto che lo spaccio avveniva nei pressi di un istituto scolastico della zona, ma anche detenzione e portabusivo di armi da sparo. Le indagini nei confronti del sodalizio sono state avviate dai carabinieri del nucleo investigativo a novembre del 2018 fino al luglio 2019. Hanno permesso di acclarare che a capo dell'organizzazione ci sarebbe Maximiliano Genova che è stato preso proprio nelle scorse ore a Malta dove si era portato già da diversi mesi. Il sodalizio era composto tra i nuclei familiari che gestivano il traffico di stupefacenti spacciando cocaina, hashish, marijuana, crack e metanfetamine. Il denaro generato, oltre che richiede il capo, veniva utilizzato per nuovi approvvigionamenti. Lo spaccio avveniva all'interno dei portoni e degli androni interni delle scale delle case popolari con gli accessi protetti da cancelli costruiti abusivamente dagli spacciatori. I luoghi di operatività della piazza sono le palazzine di Via Algeri, poste sul lato mare. Il gruppo di Via Algeri ha concentrato su di sé l'attività del traffico di droga acquisendo in tal modo la maggiore fetta di mercato rimasta scoperta dopo la chiusura delle piazze Bronx e Tonnara. Operavano vere e proprie basi logistiche con una suddivisione di compiti capaci di creare un giro d'affari di 25.000 euro al giorno con profitti tanto ingenti da girarsi sui 10.000 euro al giorno. I guadagni erano così fiorenti che il soddilizio di Via Algeri aveva aperto addirittura delle vere e proprie trattative per la vendita tucur della piazza di spaccio ad altri gruppi criminali della città. I singoli spacciatori facevano riferimento per le esigenze contingenti dello spaccio e per la rendicontazione delle attività a speciali locali che erano stati denominati ufficio e magazzino. Il primo era una vera e propria base logistica, ossia il luogo dove avvenivano le riunioni del gruppo e la ricezione dello stupefacente, dove si effettuava anche la cottura della cocaina dalla quale veniva ricavato il crack, dove si procedeva al confezionamento della sostanza e alla distribuzione delle dosi di diverse tipologie agli spacciatori incaricati alla vendita. L'ufficio era ubicato nell'abitazione delle famiglie Cacciatore e Linares che si sono avvicendate nella gestione. Nell'ufficio gli addetti ricevevano i proventi e le vendite da parte degli spacciatori e tenevano i registri contabili sui quali rendicontavano le attività quotidiane. In quello che veniva chiamato ufficio l'attività era continua e gli addetti lavoravano giorno e notte. Appena arrivava un carico i coniugi Cacciatore provvedevano a contabilizzare sul quaderno, trattenevano una parte delle sostanze e inviavano al magazzino la parte in eccesso. In caso di carenza di stupefacenti in ufficio Mario Cacciatore e Dermini a Puglisi chiamavano il magazzino per far raggiungere un nuovo quantitativo da confezionare e spacciare. Nell'ufficio si procedeva anche alla cottura della cocaina per ricavare il crack, avveniva settimanalmente il pagamento degli stipendi, si svolgevano le riunioni con i fornitori greco e visicale e i loro corrieri, si contrattavano gli approvvigionamenti. Anche Maximiliano Genova, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si recava periodicamente in ufficio dove veniva aggiornato degli addetti dell'ufficio sull'andamento dell'attività, riceveva le somme di denaro guadagnate con lo spaccio e tratteneva anche per sé una parte dello stupefacente. Sempre in questo locale si senevano le riunioni del gruppo, nelle quali Maximiliano Genova aveva il potere decisionale per tutto ciò che riguardava il sudalizio, anche se gli addetti all'ufficio godevano spesso di una certa autonomia quando il Genova si assentava. Altro elemento che controdestingueva il sudalizio malevitoso era il mantenimento agli associati detenuti, essenziale per il buon andamento della piazza, per evitare delazioni e collaborazioni da parte degli arrestati. Tutti gli affidati al gruppo percevivano uno stipendio parametrato in base alla mansione e al ruolo svolto all'interno dell'organizzazione. Nel dettaglio, settimanale dei magazzinieri era 250 euro, ancora per gli spacciatori 400 euro per turni giornalieri di otto ore. Mario Cacciatore, del Mila Puglisi, percepivano 250 euro ciascuno alla settimana, gli stessi anche prendevano 250 a settimana per la gestione dell'ufficio, con introiti complessivi quindi di circa 3.000 euro mensili. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di evidenziare l'estrema pericolosità del gruppo, in cui appartamenti non esitavano a usare la violenza. Emblematico il passaggio di Mario Capodicasa, picchiato ad opera degli spacciatori, poiché aveva acquistato una dose di cocanina e si era allontanato senza pagarla. La spedizione, ripresa e registrata dal sistema di videoripresa collocato dai carabinieri solo per la reazione del malcapitato che è riuscito a guardare alla fuga, non ha avuto più gravi conseguenze. Il contenuto delle intercettazioni attesta che il gruppo, e in primis il suo capo Genoa, incuteva un vero e proprio timore reverenziale negli abitanti della zona e imponeva la presenza di spacciatori a tutte le famiglie che abitavano nelle palazzine.